Anticipazioni Terra Amara. Arrivata in ufficio, Sabie comunica a Betul che Zuley e Mehmet stanno attualmente dibattendo su come gestire le perdite subite dalla società. Hakan desidera investire i suoi fondi senza richiedere nulla in cambio, ma Zuley ha propone di compensarlo con azioni in cambio del suo investimento. Questa proposta irrita Betul, in quanto va in conflitto con i suoi interessi e i suoi piani. Mentre Hakan e Zuley stanno discutendo, Betul fa irruzione nella stanza, esprimendo la sua rabbia per la decisione presa senza il suo coinvolgimento. Sottolinea il suo diritto di essere informata in quanto vice di demire e si oppone categoricamente alla vendita delle azioni, minacciando Zuley di intentare una causa legale che potrebbe protrarsi per anni, bloccando qualsiasi decisione. Zuley, mostrando impazienza di fronte all'atteggiamento di Betul, le fa notare che, sommate alle azioni di Mehmet, le loro quote superano quelle di Demir, consentendole di prendere decisioni senza interferenze. Betul rimprovera Zuley per aver venduto le azioni di famiglia a uno straniero, rovinando i loro piani. Dopo la scuriata, Betul va da Kadir, arrabbiata, gli dice che il suo amico Mehmet ha acquistato le azioni della holding per 20 milioni, diventando socio al 45%. Questa mossa ha rovinato i loro piani, e ora lei sarà controllata e non potrà fare più nulla. Dopo aver lasciato Betul, Kadir si sfoga con Bedo, dicendogli che l'acquisto di Mehmet è un danno per loro perché non hanno più legami né obiettivi comuni. Ora Kadir non potrà più approfittare dei soldi degli Yaman. Il procuratore ha convocato Zuley e i giornalisti, chiedendo scusa davanti a loro per non aver considerato le sue denunce contro un nemico che le ha inflitto gravi danni. Durante l'incontro, le comunica di aver ricevuto la pistola utilizzata per uccidere Umit, affermando che le impronte di Zuley sono presenti, sebbene ciò non sia vero. Sospetta che qualcuno stia agendo per danneggiare la famiglia Yaman e pensa che la stessa persona abbia assaltato la villa. Nel frattempo, Akan e Kadir ascoltano alla radio la notizia della morte di bovini nelle aziende agricole, attribuendo la colpa alla ditta fornitrice di Mangimi. Akan cerca di riconciliarsi con Kadir ammettendo l'errore di puntargli la pistola, sottolineando che hanno ancora molta strada da percorrere insieme. Gli rivela di aver acquisito il 45% delle azioni della Hoden Yomen, suggerendo che Kadir dovrebbe essere soddisfatto. Fikret, tornato da Istanbul, raggiunge la villa e consegna a Zuley a un borsone pieno di soldi, spiegando che servono per pagare i suoi debiti senza dover chiedere aiuto agli altri. Tuttavia, imbarazzata, Zuley ha confessa di aver ottenuto il denaro vendendo il 20% delle azioni a Mehmet. Nel frattempo, durante lavori di demolizione di un capanno, gli operai scoprono un frigorifero contenente il corpo di Demir Yaman, Fikret si arrabbia con Zuley a per la vendita delle azioni a Mehmet, sottolineando che aveva intenzione di risolvere la questione in famiglia. Rivela di aver venduto le proprietà di Istanbul per fare una sorpresa a Zuley a senza chiedere nulla in cambio. Ma lei ha invece ceduto le azioni a uno sconosciuto che potrebbe privarla di tutto. Zuley a risponde a Fikret che è stata costretta a vendere le azioni perché non aveva abbastanza soldi per pagare gli stipendi, sottolineando che avrebbe potuto dirglielo e che avrebbe coperto il debito. Nel luogo del ritrovamento, la polizia e il procuratore confermano la morte di Demir Yaman. Il procuratore informa il comandante della polizia che ora è evidente l'esistenza di un nemico che ha ucciso Demir e ora sta agendo contro Zuley. Quando Hakan arriva in azienda, trova Betul alla scrivania al posto di Zuley. Betul, sorpresa nel vederlo, afferma di lavorare meglio in quell'ufficio. Hakan le risponde che le forniranno un ufficio simile. Quando Zuley entra, Hakan, guardando Betul, invita Zuley a sedersi alla scrivania, poiché quel posto è riservato alla proprietaria. Successivamente, Zuley viene avvisata che il procuratore la vuole vedere urgentemente. In procura, il procuratore conferma la scoperta del corpo di Demir. Zuley, sconvolta, sviene, e Hakan la sostiene mentre Fikret la accompagna. Il procuratore si scusa con Zuley, riconoscendo di averla trattata ingiustamente e di non averle creduto. Ammette di essersi lasciato influenzare dalla falsa testimonianza di Umit, che aveva incolpato Demir per l'assalto alla villa. Zuley chiede di vedere Demir, ma il procuratore glielo sconsiglia fortemente. Tornata alla villa con Fikret tutti capiscono dalla sua espressione sconvolta che la notizia della morte di Demir è vera. Fikret e Luce portano Zuley nella sua camera, dove lei esprime preoccupazione per il futuro dei suoi bambini orfani senza Demir. Luce la rassicura, dicendole che con calma riuscirà a far fronte a tutto e che i suoi figli sono fortunati ad avere una madre come lei. Kadir, con vedo, suggerisce a Hakan di seguire le istruzioni date e promette una ricompensa. Kadir rivela a Hakan che è stato Bedo a uccidere Demir. Bedo racconta che, mentre stava conducendo Demir al capannone su ordine di Erkan, si è impadronito della pistola e stava per sparargli. Tuttavia, ha deciso di ucciderlo e ha nascosto il corpo per far credere che Demir fosse fuggito. Kadir accusa Bedo di tradimento, gli si avvicina alle spalle e gli spara in testa, uccidendolo. Hakan ordina a Kadir di seppellire il corpo e se ne va. Kadir riflette sul fatto che, dopo aver seppellito Bedo, seppellirà anche Hakan. In seguito, Hakan ricorda come i suoi uomini avessero rapito Demir e come, reagendo, Hakan avessi ordinato di conservare il corpo nel congelatore, pensando che potesse ancora essere utile da morto. Betul ha un confronto duro con sua madre quando le annuncia la morte di Demir e che la procura non vale più nulla. Sermin rimprovera Betul per non aver ascoltato il suo avvertimento di non sottovalutare Zuleya e di essere sua amica. Le avverte che ora il destino delle loro vite è nelle mani di Zuleya e le consiglia di stare attenta, poiché Fikret è l'unico rimasto e sembra interessato a Zuleya. Luce organizzerà un matrimonio per impedire a Mehmet di ottenere le ricchezze degli Aman e lasciare loro senza nulla. A casa, Zuleya ringrazia Luce per aver gestito i rituali funebri e Fikret per aver organizzato il funerale di Demir. Condivide con Luce che, nonostante il dolore causato da Demir, era un buon padre e amava Adnan come suo figlio. Esprime il desiderio che Demir non avesse avuto una morte così miserabile. Aminne, sentendo il nome di Hakan Gumusoglu, riferisce che Hakan era un amico di Demir durante il loro periodo in Germania e che era molto affascinante. Zuleya fa delle domande, ma improvvisamente Aminne non ricorda più nulla. Hakan e Kadir si trovano insieme, e Kadir si lamenta dicendo che Bedo li ha traditi e minacciati, definendolo uno stupido. Hakan risponde negando, avendo pensato di nascondere un corpo nel frigorifero per istorcere denaro a Zuleya. Aggiunge che avrebbe ricattato anche Kadir, poiché sapeva delle azioni di Hakan Gumusoglu. Kadir riconosce l'abilità di Bedo nel capire chi li avrebbe traditi e rivela di averlo ucciso in tempo. Nel frattempo, Aminne, in un momento di chiarezza, trova un cofanetto contenente i suoi ricordi. Tra essi, una foto di Demir con un amico, sul retro della quale Demir aveva scritto che era un ricordo di lui e del suo migliore amico Hakan Gumusoglu a Berlino nel 1962, quando erano ragazzi. Il giorno successivo si tiene il funerale di Demir, con pochi partecipanti su richiesta di Zuleya. Dopo la preghiera, Zuleya si rivolge a Demir, esprimendogli delusione perché pensava che il male che le aveva inflitto fosse per amore, ma si rende conto che era solo il suo carattere. Nonostante ciò, decide di perdonarlo perché è stato un bravo padre. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!